Good morning Genova Scenari, oggi parliamo di un tema importante, anche se rimasto direi come sempre un po' sotto traccia, ovvero gli effetti che la crisi, il confinamento stanno avendo e avranno sulla questione di genere. E lo facciamo riferendoci a un articolo uscito il 19 marzo scorso su The Atlantic, la rivista americana, scritto da Ellen Lewis, che è una giornalista di Atlantic, autrice di libri, e che è sullo stile dei migliori articoli delle migliori riviste americane, Atlantic New Yorker, che è piuttosto lungo, prende il tema da diversi punti di vista. Lo scrittore cerca di non esprimere le proprie opinioni, ma di far parlare sia varie persone, componendo un mosaico di voci, sia i fatti e i dati, in modo da permettere al lettore di formarsi un'opinione basata sulla valutazione di diversi aspetti. Il discorso sviluppato in questo articolo dalla Lewis è che il confinamento e i postumi economici che ci saranno, la crisi che verrà purtroppo nei prossimi mesi, forse nei prossimi anni, avranno degli effetti anche di medio termine sulle dinamiche relative alle questioni di genere. Cosa significa? Come dire, come dire, di uguaglianza e di promozione dell'uguaglianza e di eliminazione delle diseguaglianze, almeno come opportunità. Questo è in parte legato al discorso sui rapporti di genere, che poi sono dinamiche che molti di noi sperimentano quotidianamente, ma siccome in qualche modo sono normalizzate, si tendono a non vedere. La Lewis invece parte da un dato significativo riferito all'Inghilterra, cioè a Gran Bretagna, che il 40% delle donne lavora part-time, mentre è il 13% degli uomini che lavora part-time. In Italia non ho il dato, ma si suppone, cioè è facile immaginare che sia ancora più sbilanciato, perché ovviamente l'Inghilterra è il luogo dove l'emancipazione è sicuramente più avanti rispetto, pensiamo, al sud Italia. Cosa succede? Che nel momento in cui le scuole e gli asili sono chiusi, i bambini rimangono a casa e il welfare familiare dei nonni è comunque in qualche modo limitato, se non proibito talvolta, i bambini rimangono a casa. E chi se ne fa carico? Chi se ne fa carico non lavora, e chi è che non lavora? Chi guadagna di meno? Questo è un ragionamento di un certo pragmatismo e di un'elementarietà, come dire, agghiacciante in un certo senso. Perché se è vero che, e i numeri dimostrano, le donne hanno lavori più precari o part-time, quindi flessibili e comunque meno pagati in genere, è chiaro che sono loro a dover rinunciare al lavoro durante il confinamento. E gli effetti di medio termine sono assolutamente, come dire, significativi ancora di più, perché se per un mese uno ha perso il lavoro, voglio dire, in qualche modo si risolve. Ma è il medio periodo quello che è importante e questa crisi rischia di far compiere un deciso passo indietro di alcuni anni, di alcuni decenni, insomma, in merito a questa questione. Basti pensare che i casi relativi all'ebola e altre malattie, certo, in Africa la questione è differente, però dimostrano come l'allontanamento da scuola in molti casi abbia significato la perdita del percorso scolare per molte ragazze. Ora, nei paesi occidentali sicuramente non succederà uno scenario del genere, però l'aver provato, l'aver visto come per la donna sia più possibile rinunciare o farsi carico di lavoro in più, che non sia quello retribuito, sicuramente avrà un effetto psicologico generale e se non si presta attenzione, anche con politiche mirate in questo senso, se ci sarà lo spauracchio di ulteriori confinamenti o comunque con un mercato del lavoro che sarà meno generoso e più tirato nei prossimi mesi, si rischia di essere tornati indietro. In una situazione in cui già di per sé sono comunque le donne, i numeri dicono, a occuparsi di più della cura dei figli, della cura della casa, anche quando il lavoro è paritetico tra uomo e donna. Sono fatti culturali che attengono a una concezione che si ha della separazione, come dire, delle competenze e delle sensibilità, ma che poi in qualche modo lasciano anche il tempo che trovano oggigiorno. Cioè pensiamo al fatto che la maestra dell'asilo e la maestra elementare è un po' sempre una maestra, ma perché? E questo influenza ovviamente la formazione dei nuovi cittadini, perché inculca un'immagine che è più facile trasmettere rispetto a un ragionamento e quindi un ruolo nella società e un archetipo che poi viene portato avanti. Quindi una riflessione sull'impatto che avrà la crisi sulla questione di genere, che come segnala la Lewis, di tutti gli studi condotti sulle conseguenze sociali dell'epidemia solo l'1% si occupa di questo fatto. Ebbene, un'attenzione sul tema è assolutamente doverosa e utile per noi. E quindi ci vediamo martedì per un altro scenario. Mercoledì, ciao!